Ma quanto è bello la domenica mettersi qui a commentare una partita vinta per 3-0 dalla Juventus. Anche se, boh, non lo so, mi sembra che si stia facendo passare questa vittoria per 3-0 un po' in sordina. Sembra che sia tutto normale qui. Juventus che per la prima volta nella sua storia, nelle prime sei giornate, non subisce gol. Juventus che non vinceva con almeno tre gol di scarto a Marasse contro il Genoa. Dal 1995, e qui sembra che tutto vada male, io davvero fatico a comprendere, ma sarà sicuramente un mio limite. Assolutamente sarà un mio limite. Mi sento quasi nella minoranza, perché comunque tanti altri concordano con me sul fatto che questa vittoria sia stata molto importante per la Juve. Però ho come l'impressione che ragazzi siamo una minoranza. Sembra quasi che vincere 3-0 sia diventata la cosa più naturale e ovvia del mondo. Boh, non lo so. Non riesco proprio a capire questo mood che sto percependo nei tifosi della Juve. Spero che si possa comprendere perché sta girando questa aura intorno alla squadra. Io sono molto contento, ma veramente tanto. Tant'è che Tiago Motta si becca un bel 6,5 perché il primo tempo è stato brutto, il primo tempo che a me non è piaciuto per niente, con qualche spunto individuale e nulla più. Ma nel secondo tempo Tiago Motta ha cambiato la Juve con tre cambi tattici, non cambi di giocatori. Ha invertito Danilo e Calulu, ha arretrato McKennie al fianco di Fagioli, ha centrato Cobb Mainers, permettendo quindi a Ildis e Nico, che non sono degli esterni che vanno a prendersi tutta l'ampiezza, di lasciare i corridoi alle sovrapposizioni di Calulu un po' più rare e di Rui un po' più frequenti. Quindi queste mosse, che andremo ad analizzare comunque anche in un bel contenuto qui sul canale, magari nella giornata di domani, hanno invertito la tendenza di questo Genoa Juve, che è stato sbloccato sia da un rigore, ma poi bisogna aggiungere tutto quello che è stato deciso dal punto di vista tattico dall'allenatore. Di questo ho già parlato nei video di questa mattina, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Voto 6,5 per in perché stavolta non è da senza voto. Ci sono stati un paio di parati interessanti, dalla lunga distanza principalmente, e poi c'è stata quella grandiosa su Pinamonti, che fa guadagnare a Mattia il suo primo voto in pagella in stagione, ed è un voto positivo. Bremer, voto 6,5. È la Juve di Bremer in questo momento. Se le prime partite avevamo gatti sugli scudi, ecco che ora invece è Bremer che deve prendersi un po' la copertina. Ennesima buona prestazione di Bremer, giocatore che per me ha avuto una crescita mostruosa a particolar modo in quest'ultimo anno, quindi sono felicissimo che sia il nostro numero 3, e che riesca comunque a farsi trovare pronto e presente insieme a qualsiasi compagno di reparto di metti di fianco. Perché nel primo ha giocato con Gatti, ieri nel secondo tempo ha giocato con Danilo, nel primo ha giocato invece con Caluru. Caluru infatti è il prossimo difensore che andiamo a prendere in considerazione e si becca a voto 7. Complimentoni, Pier. Davvero complimentoni. Perché se è un giocatore che metti centrale, fa il suo. Metti esterno, fa il suo. Io sono convinto che possa giocare nell'emergenza pure a sinistra e fare il suo. Fino adesso credo il giocatore migliore della Juventus tra i nuovi acquisti. È il giocatore che più di tutti sta facendo vedere di essere già dentro i meccanismi di Tiago Motta. Sono molto contento di questo acquisto e molto contento perché Caluru anche nel primo tempo è stato secondo me uno dei migliori in campo. All'interno di un primo tempo veramente troppo brutto per essere vero, Caluru c'era. E ieri anche qualche sovrapposizione, ripeto, un po' più rara rispetto a Rui, perché per caratteristiche lui non è un terzino che spinge. Però abbiamo visto pure quelle, con dei movimenti interessanti per liberare spazio a Nico González. Molto bene. Rui, voto 5,5. Perché il primo tempo è stato troppo brutto per essere vero. Ha maggior ragione per i suoi frequenti e ricorrenti errori tecnici. È un ragazzo che aveva ieri la sua prima possibilità di giocare una partita di Serie A dal primo minuto. Quindi stiamo parlando ovviamente di un giocatore che non puoi crocifiggere per ovvie ragioni perché sarebbe sbagliato. sarebbe proprio tutto quello che per me c'è di più errato nel calcio. Vuoi per l'emozione, vuoi per il livello, però mi è sembrato un giocatore non pronto in questo momento per essere anche un ricambio per la Juve. Poi è ovvio che avrà tempo per crescere, per sgrezzarsi, per togliersi anche sicuramente questa pressione, perché non possiamo non prenderla in considerazione quando parti con la Juventus per la prima volta da titolare. C'è per forza di cose. Però dico dove mi è piaciuto maggiormente il ragazzo. Intanto nell'intraprendenza, perché quando c'era da spingere non è che diceva no, non vado, tant'è che il rigore di De Winter nasce proprio da un cambiolato di Nico González a su di lui, che si è fatto quindi trovare pronto con coraggio nell'area di rigore del Genoa. In seconda battuta vi dico che quando deve difendere mi sembra un buon giocatore. Tutte le volte che doveva andarsi a prendere quello spazio tra la palla e il portiere, con anche i giocatori del Genoa che andavano ad attaccare, lui si è sempre fatto trovare veramente pronto nella lettura difensiva. Quindi è un giocatore che secondo me delle caratteristiche interessanti le ha. Ripeto, ieri non mi è sembrato pronto per la Serie A con la Juventus, ma sono convinto che ci sia del potenziale in lui e che ci si possa lavorare. Quindi forza e coraggio ragazzo, un 5 e mezzo di incoraggiamento, perché nel primo tempo ti ho visto un po' troppo emozionato, ma ci sta la grande. Danilo invece votò 5. E mi dispiace perché ieri raggiunge le 200 presenze con la maglia della Juve. Ed è sicuramente un traguardo storico importantissimo. Però ieri si è anche compreso, l'abbiamo capito, il perché non stia giocando la titolare o comunque non sia interessato nelle rotazioni. Certo, c'è da mettere in considerazione il fatto che se il campo non lo vedi, fai fatica anche a mettere minuti nelle gambe e raggiungere il ritmo partita. Questo è un dato di fatto. Però mi pare di capire che Tiago Motta in Danilo non vede un giocatore pronto atleticamente proprio. Con questi ritmi che Tiago Motta vuole sostenere. Io capisco perché gioca Savona al suo posto, capisco perché gioca Gatti Centrale al suo posto. Lo capisco assolutamente. Capisco perché gioca Calulu ovviamente. Quindi ci sarà da pedalare, Dani. Perché gli ho visto fare degli errori troppo banali per uno come lui. Credo che sia stato il peggiore in campo ieri della Juve. Magari al pari di Ruicche però nel secondo tempo si è un po' ripreso. Danilo l'ho visto un po' incerto anche da centrale difensivo. Non mi è piaciuto tanto. Abbiamo anche un po' ballato quando il Geno attaccava dalla sua parte. Fagioli voto 6. Partita ordinata, difficile nel primo tempo, un po' più comoda nel secondo, quando prima McKennie e poi Douglas Lewis sono andati a raffiancarlo in cabina di regia perché lì era troppo solo. Era veramente fagioli contro tutto il centrocampo del Genoa. E faceva fatica a trovare spazi e trovare il palleggio. Io credo che questa Juve non possa più permettersi di giocare come un solo centrocampista. Perché a tutti gli effetti il 4-1-4-1, ieri 4-3-3 perché ieri è stato più un 4-3-3 che un 4-1-4-1 della Juve, però vede svuotare il centrocampo. Questa è una delle mosse che Tiago Motta ha sempre fatto anche a Bologna. Però quando svuoti il centrocampo e vuoi giocarla sull'ampiezza, magari contro una difesa che difende a 5 e un centrocampo che difende a 4, dove non ci sono spazi, devi far girare la palla, devi farla girare bene. E serve un centrocampo ben fornito. Quindi, secondo me, due centrocampisti oggi sono giusti per i giocatori di questa Juve. Le caratteristiche di questa Juve, due centrocampisti ci devono sempre essere. Vedremo come Tiago Motta andrà ad articolare questa Juve, perché secondo me siamo ancora decisamente in fase di rodaggio e possiamo fare ancora meglio. McKennie voto 6,5 perché è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più nel primo tempo. McKennie e Kalulu, insieme a Bremer, secondo me sono stati i migliori in campo nel primo tempo. McKennie a centrocampo è stato l'unico ad avere qualche guizzo, andarsi a conquistare qualche fallo, qualche punizione, anche la posizione interessante. Quindi McKennie al servizio della Juventus dal punto di vista del pressing, della fase di non possesse, eccetera, eccetera, però nel primo tempo secondo me è stato il migliore dei tre centrocampisti. McKennie 6,5 nel primo tempo invece non mi è piaciuto per niente, nel secondo abbiamo visto la qualità superiore di un giocatore importante come McKennie 6,5. Perché negli ultimi metri è un giocatore che può, deve e farà male agli avversari. Peccato soltanto per quel Paolo Portavuota preso, che sposta ovviamente la valutazione sulla partita, perché una partita con un assist come quello che ha fatto Vlaovic, che è delizioso e meraviglioso, un velo che ha fatto con Seisau che è delizioso e meraviglioso, avesse aggiunto pure il gol, beh, sarebbe stato a mani basse per quanto mi riguarda. Il migliore in campo. Invece si è fatto a trovare un po' impreparato e alla fine ha preso una traversa da veramente pochi, pochissimi passi. Il 18-6 l'ho visto fare fatica. L'ho visto fare molta fatica. E soprattutto l'ho visto un po' frettoloso. Mi sembra che Ildiz sia in un momento in cui si sente di poter fare quello che vuole. Sente di aver fiducia nei suoi mezzi. E questo lo porta a cercare sempre la giocata anche più difficile, più di fino, più bella da vedere e più decisiva. A volte però secondo me deve fare un ragionamento con uno step inferiore e capire che quelli giocatori li deve fare quando guarda la porta, quando è negli ultimi metri, quando è nella posizione giusta. Se sei spalla la porta nel cercare di gestire la manovra della Juventus. A volte anche solo uno scarico all'indietro per cambiare la fascia di competenza e poi tornare da te con l'Atalanta che si sta... L'Atalanta? Con la squadra avversaria che sta seguendo gli spazi, gli uomini. Dopo lì, quando la palla ti torna, puoi far male. Tant'è che una delle armi migliori, secondo me, di questa Juventus deve essere il cambio gioco. Come ha provato appunto Nico Gonzalez su Ruiz e dove poi Ildiz va a guadagnarsi il calcio di rigore per un infortunio di De Winter. Poi io sono sempre dell'idea che valutare la partita in base a si sblocca sul rigore o no, ragazzi, io non ho mai visto delle partite senza errori dove poi nascono i gol. Cioè, una partita senza errori finisce a 0-0. Se non c'è neanche un minimo errore a parte di tutti i giocatori, finisce a 0-0. È inutile. I gol nascono da errori dei giocatori, per forza di cose. Ed è difficile che in 90 e passa minuti 22 giocatori più quelli subentranti non vadano a commettere mai neanche un errore. Ildiz è stato intelligente a prendersi, tra virgolette poi, a prendersi a fare quella giocata che ha portato al calcio di rigore, però secondo me dentro la partita siamo ancora un passettino indietro. Ildiz può fare decisamente di più. Vediamo in Champions, perché in Champions ha già trovato il suo primo gol in questa stagione e che gol da fenomeno. Sapete quanto io adoro i Kenna Lildiz. Nico Gonzalez voto 6,5. Nel primo tempo uno dei più pimpanti lì davanti, quello che comunque provava anche con un'azione individuale a creare quella cosa. C'è stata una bellissima azione sulla destra, proprio generata da una giocata di Nico Gonzalez. Nel secondo tempo è proprio lui con il suo cambio gioco a mettere fuori causa la difesa del Genua e a permettere alla Juventus di guadagnarsi il calcio di rigore e poi esce per un po' di meritato riposo anche in vista Champions. Voto 6,5. Finalmente. Finalmente Dusan Vlaovic che in questo momento insieme a Turam e a Pulisic è capo canonero del campionato con quattro gol segnati. Complimenti Dusan. Bravo Dusan. Soltanto doppiette. Ecco. La cosa importante è iniziare a suddividerli un po' meglio questi gol. Però è ovvio che quando un attaccante poi si sblocca c'è anche caso che non si fermi più. A me è piaciuto molto Vlaovic ieri al di là dei gol nel secondo tempo. Perché nel primo non ha toccato mai la palla. Nel primo tempo la Juventus non è andata. Ma nel secondo tempo ha giocato per la squadra, è venuto incontro, a volte appoggiando di prima e soprattutto secondo me è importantissimo con Cobainers di fianco. Perché gli ho visto fare anche due appoggi di petto direttamente a Cobainers perché era lì vicino. Cioè Vlaovic ha bisogno, ha letteralmente bisogno di un giocatore vicino a lui. Tant'è che il miglior Vlaovic, volenti o nolenti ragazzi, l'abbiamo visto con Paolo Di Bala a suo fianco. Era lì che Vlaovic davvero dava il meglio di sé. Quando aveva un giocatore come Di Bala di raccordo. Cobainers quello può fare. Alla grandissima. E soprattutto Vlaovic nel secondo tempo andava ad attaccare la profondità. Il gol del 2-0 della Juve della doppietta personale di Vlaovic è tutto quello che serve a Vlaovic. Non Vlaovic che deve entrare dentro il palleggio. No, Vlaovic deve se può toccare il meno possibile il pallone e andare a prendere questi palloni filtranti. Che gli altri poi devono essere bravi a saperli mettere. E poi lui deve essere bravo a finalizzare. perché anche per dire Nico González aveva messo una gran palla e poi purtroppo il pallone dentro non l'aveva buttato. Ma sono convinto che se riusciamo a servire con continuità Vlaovic sulla profondità sul taglio oltre la difesa avversaria riusciremo veramente a far rendere grande questo giocatore. Io l'ho detto dall'inizio per me Vlaovic va oltre i 20 gol. Per me ne fa 21 soltanto in Serie A. In questo momento il capo cannoniere dopo anche tanti minuti a secco quindi Dusan capisci bene che le potenzialità ci sono. Non mi è piaciuto quando ha zittito il pubblico che non c'era. Vabbè quello è un dato di fatto è una cosa in più. Però le critiche sono state giuste in questo momento. Io capisco che sia una reazione umana. Poi è ovvio che parlate parlate riferito a quelli che l'han già definito una pippa un bidone il peggiore attaccante della storia Vlaovic non è niente di tutte queste cose Vlaovic è un attaccante molto forte molto forte per il livello attuale della Serie A che non ha avuto il margine di crescita che ci si aspettava ma che fa ancora in tempo ad andare a raggiungere quindi io capisco che quello sia nei confronti di chi ormai ha già abbandonato la nave Vlaovic il carro Vlaovic e non nei confronti di chi anche oggettivamente ma anche come Tiago Motta gli ha detto che in questo momento serve qualcosina di più io sono molto contento che Vlaovic abbia segnato due gol ieri e spero che da questo momento in avanti possa non fermarsi più Douglas Lewis io capisco perché Tiago Motta non lo mette al primo minuto lo mette sempre solo quando la Juve vince perché quando la Juve vince e questo inizia a palleggiare è difficile togliere la palla ragazzi è complicato togliere la palla io non so perché ogni giocatore brasiliano che arriva la Juve si chiama Douglas che sia Costa o che sia Luis abbia una tecnica di veramente altissimo livello e spero che possa essere impattante come Tiago Motta ma come Tiago Motta ragazzi oggi non ce la faccio come Douglas Costa ma sono entrambi i giocatori che non vedi nei titolari no però però secondo me se la Juve davvero accetterà il fatto di giocare a due a centrocampo quindi 4-2-3-1 piuttosto che 4-1-4-1 e si accetterà di non andare sempre sugli esterni con i centrocampisti svuotando il centrocampo Turan Douglas Lewis e Cobb Mainers che è un po' come la Juve poi ha concluso la partita ieri anche se c'era pure Fagioli estero-sinistro che non c'entra niente in quella posizione ma quel trittico lì per caratteristiche per qualità e per palleggio secondo me può dare davvero il filo da torcere a tutti secondo me questo sarà il centrocampo titolare alla lunga però intanto osserviamo e guardiamo come se sa voto 7 mi ha fatto troppo ridere l'intervista post partita con lui Ebrauici di fianco ma veramente tantissimo ma mi ha fatto ancora più godere vederlo giocare a calcio perché quella palla meravigliosa che mette per Cobb Meiners e la mette dopo un secondo dal suo ingresso in campo è una perla il gol del 3-0 è un gol con tanta voglia di entrare finalmente ufficialmente nella storia della Juve è stato un grande impatto di Consei Sao la partita l'ha cambiata l'ha svoltata quanto dribbla quanto muove veloce quei piedini quelle gambe sembrano le ali di un colibri e quindi bentornato Consei Sao e goditi il tuo primo gol meritatissimo con la maglia di Juventus voto 7 Turan voto 6 e mezzo l'assit tra Consei è suo c'è una sorta di doppio velo tra Blauvi e Cobb Meiners prima di far arrivare la palla a Consei Sao però io ripeto che Turan per me è un giocatore che difficilmente riuscirà a togliere questa Juve cioè per caratteristiche mi sembra l'unico vero insostituibile vogliano togliere magari Bremer come mostro sacro o Cobb Meiners che se gioca davvero tra le linee lì un po' più avanti un po' più centrale diventa secondo me un giocatore di cui non puoi fare a meno però Turan a me piace molto 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 e spero che ormai questo infortunio l'abbia smaltito che possa essere a disposizione anche per giocare dal primo minuto Cambiaso voto 6 Savona voto 6 un ingresso tranquillo per i nostri due esterni Savona ha messo una grandissima palla per Blauvi che purtroppo è uscita a lato dopo un colpo di testa troppo brutto per essere vero ma lo sa anche Dusan che si è quasi messo a ridere per averlo sbagliato una risata probabilmente di frustrazione della serie ma che cazzo ho sbagliato ma non ci posso credere però Savona era entrato molto molto bene un po' meno bene nell'azione dove poi tira Pinamonti lì c'è un po' d'arrangiarsi sul giocatore del Genoa che stava marcando Savona ma alla fine è andata tutto bene e quindi signori queste erano le pagelle di una vittoria per 3 a 0 che ripeto per me è molto importante e non comprendo come faccia a passare come una ma sì dai abbiamo vinto tante volte abbiamo detto che negli ultimi anni il Genoa Marassi era tosto sì è vero era uno stadio vuoto non l'abbiamo voluto noi anzi noi avremmo voluto da tifosi juventini essere presenti a sostenere la nostra Juve quanti mi avete scritto nelle ultime ore dicendo io avevo già prenotato il treno avevo prenotato il biglietto era da mesi che volevo andarci eccetera eccetera tantissime persone qualcuno mi ha pure detto volevo andarci col bambino hanno tolto al bambino la gioia di andare a vedere la Juventus noi volevamo andarci allo stadio non è questo il punto però la Juventus era dal 95 che non vinceva con almeno tre gol di scarto a Marassi contro il Genoa la Juventus non aveva mai fatto una partenza così qualitativa nei gol subiti cioè zero nelle prime sei quindi signori secondo me c'è da essere contenti in questa domenica c'è da essere meno contenti quando non arrivano questi risultati ho queste notizie sembra quasi che ci siamo dimenticati come goderci una vittoria e non riesco veramente a capire perché ciao a tutti buona domenica e forza Juve ciao a tutti